Breitling Navi Timer 1 B01 Chronograph, l'iconico cronografo da pilota per eccellenza. La storia del Breitling Navi Timer 1 B01 Chronograph risale al 1952, quando Willy Breitling, nipote del fondatore Leon Breitling, ideò un cronografo da polso dotato di un regolo calcolatore circolare. Questo strumento era in grado di eseguire tutte le operazioni matematiche necessarie per la navigazione aerea, da cui il nome Navi Timer, derivato dalla contrazione di Navigation D- Timer. Presto, il Navi Timer divenne il segnatempo ufficiale dell'Aircraft Owners and Pilots Association AOPA, la più grande associazione di piloti al mondo. Fu indossato da aviatori civili e militari, incluso l'astronauta Scott Carpenter, che lo portò nello spazio nel 1962 a bordo della capsula Aurora 7. Oggi, il Breitling Navi Timer 1 B01 Chronograph rappresenta una delle versioni più fedeli e moderne dell'orologio originale, combinando maestria tecnica e tradizione per l'aeronautica. Con un diametro di 43 barra 46 mm, questo orologio si distingue per la sua presenza sul polso e la leggibilità del quadrante e del regolo aeronautico. Presenta tre registri, i piccoli secondi alle 9, i minuti alle 3 e le ore alle 6, in una combinazione di colori del panda inverso. La finestra della data tra le 4 e le 5 si integra armoniosamente nel quadrante. Il logo dell'ala B, il rilievo e la lancetta dei secondi rossa aggiungono un tocco di colore. Inoltre, gli indici delle ore, le lancette dei minuti e delle ore sono dotati di lume applicato, garantendo una lettura dell'ora al buio per diverse ore dopo una breve ricarica. Grazie all'uso della lunetta e alla posizione del sole nel cielo, il Navi Timer può essere utilizzato anche come bussola. Il cronografo da pilota ha una configurazione classica a due pulsanti, con il pulsante Stop Start alle 2 e il pulsante Reset alle 4. Il cinturino o il bracciale possono essere scelti in pelle nero o in acciaio inossidabile, per adattarsi al proprio stile e preferenze. Se siete alla ricerca di un orologio che vi faccia a sentire dei veri piloti, il Navi Timer 1B01 Cronograph è ciò che fa per voi.